Ragazzi oggi vi voglio mostrare come ho rivoluzionato il mio smartphone. La mia i14 ha portato sì tante novità però ultimamente mi aveva un pochino stancato e quindi nel video di oggi se sei un possessore di Xiaomi, Redmi o poco ti mostrerò in pochi semplici passi come andare a rivoluzionare il tuo smartphone. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale qui sotto e ovviamente lascia un mi piace. Primo step ragazzi dovete pulire tutta la vostra home quindi togliete qualsiasi tipologia di icona e cartella anche qua nella parte inferiore dove c'è la dock così da tenere una home screen pulitissima. Step 2 ragazzi dovete per forza trovare uno sfondo che vi piaccia. Allora questo qua è uno sfondo che abbiamo creato a New York, fa parte del pacchetto Delta e l'ho personalizzato con dei miei preset all'interno di Lightroom. Se volete scaricarlo dovete andare nel mio canale Telegram. All'interno degli sfondi del Guerz vi lascerò il link in descrizione. Vedete questo qua è lo sfondo che ho creato quindi dovete scaricarvelo e ve lo salvate in galleria e vi servirà per appunto andare a impostare come sfondo. Una volta scaricato nella galleria non fate nient'altro che andare qua imposta come sfondo. Se volete applicarlo anche alla vostra schermata di blocco lo potete fare oppure lo applicate solo alla schermata home. Niente vi vieta di scegliere lo sfondo che più vi piace. Quello che vi consiglio io è di trovare un layout abbastanza pulito da poter così far risaltare le icone. Terzo step andiamo a entrare nelle impostazioni del nostro launcher. Allora copiate le stesse identiche impostazioni che ho usato io. 5x6 è il mio layout, riempi gli spazi delle app disinstallate l'ho tolto. Blocco layout home l'ho tolto poi andiamo su altro. Ecco qua io ho utilizzato il cassetto app però niente vi vieta di utilizzare quello che più vi piace però in questo caso trovate anche il tastino della freccina in su che vi serve. Poi altra cosa ho tolto app consigliate e ho tolto posiziono nuove app sulla schermata home così quando andate ad installare una nuova applicazione non mi verrà inserita all'interno della home. Tornando indietro andate anche a controllare queste impostazioni. Dimensione icona in questo caso io l'ho messa un pochino più piccole poi sta a voi la scelta del layout delle icone. Ricordatevi 5x6 non mostrare testo e poi tutto il resto lo mettete uguale identico. Questa è l'applicazione chiave si chiama AppBar ed è l'applicazione che costa sì 2,09 euro però ragazzi vi permette appunto di cambiare il template delle vostre icone e quindi di utilizzare un pacchetto icone esterno. È un'applicazione fantastica che praticamente va a crearvi un widget con delle icone al suo interno con delle scorciatoie un po' come avviene anche su Apple ed è fondamentale se volete ricreare questo. 2 euro non mi costa niente sono due caffè e quindi secondo me merita assolutamente il costo lo sviluppatore. Grazie ad AppBar adesso ve la faccio vedere nella mia home screen potete creare appunto questi template già pronti vedete ne ho creato uno e ne ho creato un altro qua così da dare un pochino più di personalizzazione un pochino più di tocco alla vostra home. È scomparsa la doc quindi io non utilizzo doc però vedete a scorrimento poi ho altre applicazioni. Allora andiamo ad aprire AppBar e andiamo in questo caso a creare un nuovo template così da poter farlo da capo insieme. Andiamo ad aggiungere applicazioni quindi dovete in questo caso a selezionare tutte le applicazioni che volete inserire nella vostra prima pagina. Andando a premere su Add vedete qui scegliete quello che più vi piace ora ne prenderò alcune a caso così da poter creare una home screen qua con voi. Ecco come vedete in questo caso abbiamo le icone che sono quelle di default di base e quindi dobbiamo andarle per forza a cambiare. In questa seconda colonna potete andare vedete a mettere più applicazioni o meno applicazioni sta a voi la vostra scelta. Icon Pack qui potete scegliere Delta. Delta è il pacchetto icone che ho scelto io quindi è gratuito lo trovate sul Play Store niente però vi vieta di usare o quella di sistema o altre icone che avete scaricato dal Play Store. Delta è un pacchetto minimale che secondo me con uno sfondo del genere ci sta veramente molto bene. Potete scegliere anche qua vedete la grandezza delle vostre icone più grandi o più piccole e poi andate a spuntare togli la scritta sotto quindi togli il nome dell'icona così da creare un pochino più una home personalizzata. A questo punto cosa dobbiamo fare? Ci guardiamo il nostro widget. Come vedete tutte le icone sono state cambiate però se un'icona non dovesse piacervi o comunque sia non dovesse essere quella che avete scelto potete andare a editare l'icona. In questo caso potrebbe anzi sicuramente vi chiederà di scaricare Shortcut Maker dal Play Store lo fate senza problemi e adesso vedete che io qua posso cambiare l'icona a mio piacimento. Ecco qua andate a scegliere quella che più vi piace oppure andate a scegliere quella dell'applicazione perché come vi ho detto non sempre di base vi va a scegliere l'icona giusta. Adesso ragazzi non facciamo altro che andare vedete a posizionarlo nella nostra home quindi dobbiamo andare a fare un pinch widget in fondo troviamo app bar e come vedete qui ci sono tre temi l'ultimo questo qua è quello che abbiamo creato in questo istante quindi ci clicchiamo sopra lo andiamo a posizionare lo andiamo ad allargare perché abbiamo fatto ovviamente più pagine ed ecco qua che abbiamo posizionato il nostro widget. Se vi dovesse come nel mio caso piacere questo template del meteo adesso ve lo faccio vedere lo andiamo subito a selezionare l'applicazione si chiama Today Weather è gratuita ci sono dei banner pubblicitari però diciamo che sono poco invasivi e come vedete in questo caso è ricchissima di template e potete selezionare quello che più vi piace. Io in questo caso quindi nella mia home ho selezionato questo potete andare a aumentare o a diminuire caratteri potete anche aumentare o diminuire la dimensione delle icone personalizzare il vostro sfondo quindi andare a metterlo più trasparente o cambiare di colore a me piace così quindi non faccio altro che premere crea ed ecco qua che mi ha creato il template per quanto riguarda il meteo. Vedete la home in questo caso è molto semplice io utilizzo due pagine quindi ho delle applicazioni che utilizzo sempre nella seconda pagina con il calendario e una prima pagina molto pulita. Ricordatevi che non avete più la doc quindi per andare a richiamare tutte le app a display dovete utilizzare lo swipe verso in su dove c'è la freccina. Molto semplice minimale e secondo me andate a personalizzare veramente tantissimo il vostro Xiaomi. Trovate ragazzi tutti i link qua sotto nella descrizione mi raccomando se il video vi è piaciuto per supportarmi lasciate un mi piace iscrivetevi al canale youtube e noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video.